Alcuni di voi non torneranno indietro. Non c'è altro modo per dirlo. Delle semplici statistiche lo confermano. Se negli ultimi istanti vedrete la morte... Salve. Non pensate alla morte. Pensate ai vivi. E sappiate che il vostro sacrificio non sarà in alcun modo vano. Per quelli che muoiono, non fa differenza chi vince la guerra. Sta dicendo che le palle gli sono esplose? Più o meno, signore. Voglio vedere. Per la miseria! Non uccidete quelle capre! Tu credi ancora di uscirne vivo? Esci di qui! Cosa? Cos'è questa brodagna? La follia è contagiosa. Hip hip! Urrà! Hip hip! Hip hip! Va bene, va bene, grandioso. Sì, signore. Hip hip! Potete proprio dirlo forte! Urrà! Bell'inghippo questo comma 22.